Mascia e Orso, viva le buone maniere! Gentilezza e buone maniere non sono regole severe, sono piccole attenzioni che rendono felici quando le doni. Per gustar pranzo e cenetta, usa sempre la forchetta, non si mangia con le mani o si passa per villani. La carta del cioccolatino va buttata nel cestino, non si tratta di bravura, ma di rispetto per la natura. A Pinocchio il burattino, a ogni bugia cresceva il nasino, a te non succede ma non mentire, qualcuno poi ne potrebbe soffrire. Hai finito di giocare? Corri presto a riordinare, metti i giochi al loro posto, anche quello più nascosto. Litigare non serve a niente, collaborare è più divertente. Se fai squadra con i tuoi amici, il risultato farà tutti felici. Se fai il chiaccherone, segui male la lezione, ascolta senza disturbare, sarà più facile imparare. Quando giochi con il pallone, niente sgambetti, non farlo sbruffone, gioca e divertiti senza barare, quello che conta è partecipare. Sai qual è un vero peccato? Prendere in giro un amico fidato, non ti abbassare a quel livello, ridere insieme è molto più bello. Non vuoi fare figuracce? Lascia stare le boccacce. Se sorridi e dai un bacino, il tuo viso è più carino. Le buone maniere ora hai imparato, sai comportarti in modo educato. Corri fuori e vai a giocare, ciò che conta lo sai fare. Fine Che bai